. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 4 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Eredità da lontano. Se sognate l'eredità dallo zio d'America o dal bisnonno trasferito in Argentina, dovete aspettare ancora un pezzo, vi piace fantasticare, immaginare dà un gusto speziato alla vostra vita, soprattutto se la trama del film, con la regia di Urano e Giove in se stile, riguarda situazioni limite in paesi lontani. Una bella eredità, non necessariamente pecuniaria, l'avete comunque ricevuta per davvero, un'impostazione mentale aperta e curiosa dei fatti del mondo, il gusto del viaggio e dell'avventura, il bisogno di spazio mettendo il naso oltre le colonne d'Ercole, dove secondo gli antichi finiva il mondo, la vostra anima non conosce confini e non ammette limiti. Il regalo da chiedere alla Befana approfittando dei primi saldi, un trolley leggerissimo, sicurissimo, coloratissimo, fichissimo, sarà il vostro passaporto per il mondo. I sentimenti trionfano e si realizzano nella coppia nel migliore dei modi, non è escluso che nella coppia si possano gustare presto delle gioie come quelle di un figlio in arrivo. In arrivo lettere, messaggi, telefonate e anche visite estremamente positive, l'attesa sarà premiata, anzi alcune di queste potrebbero essere delle vere sorprese. Coppie in armonia perfetta e molto concrete. Anche i single beneficeranno di un periodo di incontri determinanti che potrebbero sfociare nell'incontro con l'anima gemella. Oggi in amore vi sentirete piuttosto insofferenti a tutto, venere oggi non lesi nei piccoli dispetti e potreste, in alcuni casi, essere presi anche dallo sconforto. I single invece viaggiano con la velocità della luce. Attenti solo a non schiantarvi. Una situazione particolare richiede grandi sacrifici e grande spirito di adattamento, potreste incontrare nella prima mattinata delle difficoltà, ma dal tardo pomeriggio la situazione volgerà sicuramente in meglio. Monotonia in amore, tutto sembra fermo e statico. E non sarete certo voi a dare la botta di vita. Pazientate. Possibili oggi inviti a feste o a cene, non accettate subito di slancio ma cercate di tergivesare almeno un po', quel tanto che basta a non far trapelare la gioia per aver ricevuto l'invito. Se siete alle prese con problemi di ordine economico, sappiate che presto Giove porterà nella vostra vita le giuste soddisfazioni. Si tratta solo di avere pazienza quel tanto che basta. Non avete voglia di impegnarvi in una storia duratura. Meglio vivere una passione fugace senza mettere radici. Attenzione però ai più furbi. Oggi nati di domenica tra le 18 e le 24 potrebbero avere la lieta sorpresa di un ritorno inaspettato e per tanto tempo atteso in vano. I single dovranno pazientare oggi e farebbero bene a restarsene a casa. Non fate di ogni erba un fascio, non sempre le intenzioni delle persone che vi circondano sono cattive. Qualche volta accettate anche altri punti di vista. Attenzione ad oggetti che scottano e bollenti, maneggiateli con cura e prudenza, potreste scottarvi o combinare qualche piccolo disastro. Prestate attenzione anche ad oggetti accuminati o taglienti. Si concretizzano i buoni influssi di un luminoso Giove in toro combinato con il sole nel segno razionale del capricorno, aspetto che vi aiuta a creare un clima di totale armonia nell'ambiente amicale e familiare. In particolare a beneficiare del rapporto tra genitori e figli o di una aperta e sincera comunicazione con gli amici, sarete voi pesci che festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 di febbraio al 4 del mese di marzo. Assonnati, si vede che le bisbocce di San Silvestro non le avete ancora smaltite del tutto. Potendo stamani dormireste anche fino a mezzogiorno, passando direttamente dal letto al brunch. Peccato che qualcuno inviato dalla coppia Venere-Mercurio dispettosa allo Zenit vi chiami sollecitandovi un incontro. Se poi c'è una grana in attesa di lavoro a chi toccherà se non a voi? Amore ed eros. Serata piacevole e disinvolta, col partner siete pronti a fare micio micio, ma se la mezza me la ancora non c'è, non ve ne fate un cruccio, nella cerche di amici, in palestra o al vostro club dove ci si riunisce anche stasera c'è qualcuno che vi fila da tempo e oggi lancia il sasso, invitandovi a casa sua. Avance anche da un amico che credevate immune al vostro fascino, invece ci casca anche lui, e come. L'essere voi stessi, l'autenticità e spontaneità del carattere vi donano quella fluidità di comportamento che ricercate nei sentimenti. Grandi successi amorosi per tutte le pescioline e i pesciolini nati dal giorno 19 al 26 del mese di febbraio tenerezza e dolcezza fanno parte integrante del vostro modo di essere e di amare. Non vi atteggiate a duri di cuore, perché non siete affatto così. Lavoro e denaro? Finanze sotto pressione, non tanto per colpa vostra e delle vostre mani boccate, piuttosto per il caos dei mercati e della politica estera. Inevitabili dopo la chermesse natalizia qualche taglio alle spese, cominciando dal voluttuario, un vero peccato, penando che i saldi iniziano dopo domani. Urano, nel segno operoso del Toro e Nettuno, Saturno, in congiunzione proprio nel vostro segno con adesso l'appoggio di Plutone in Capricorno, continuano a darvi influenze di adattabilità e di disponibilità al compromesso nell'ambiente lavorativo. Queste qualità oggi vi serviranno ancora di più per fronteggiare qualche nervosismo di troppo presente tra i colleghi. In particolare se siete nati in marzo. Benessere. Sbalzi di temperatura e fumo sono i diavoletti che vi infiammano la gola, correte subito ai ripari con sciacqui di erbe disinfiammanti, ottimali malva e timo, con l'aggiunta di propoli. Denaro. Riuscite a gestire una situazione patrimoniale che da tempo vi teneva in attesa in famiglia. Con la vostra diplomazia, il darbo, il bonton che vi contraddistingue fate in modo che tutti siano soddisfatti. Per lei, lettera o mail da lontano, arriva a sorprendervi rivelandovi un segreto di famiglia. Non l'avreste mai immaginato di appartenere a un clan intrigante. Per lui, sogni rivelatori, all'improvviso capite ciò che non avete mai voluto ascoltare. Eppure era tutto così chiaro. Colore delle emozioni, blu oltremare. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.